Siamo una band che viene da Nagni, provincia di Frosinone. Voi venite da Nagni, io sarei di Roma. E lui è di Roma? Posso perché anch'io vengo da Latri. Questo è mio fratello Andrea. Sono Andrea Sambalotti, ho 18 anni, ho 32 anni, sono il tastierista della band e il cantante, il secondo cantante. Io e lui abbiamo iniziato proprio questo progetto fondando la band e poi si è inserito nostro cugino Marco. E da quel momento è migliorato tutto. Sono Lorenzo, ho 24 anni, sono il bassista della band e no, non sono il loro cugino, fratello, insomma, non sono niente. No, raga. Io sono Andrea, ho 26 anni e sono il batterista dei Gemini, per fortuna non loro parenti.